Io sono Sergio di Fare Comune, realista collettivo Fare Comune, che ha eletto il consigliere Fabio Pazzaglia in Comune e che ha appoggiato fin dall'inizio questo progetto che fa sotto il nome di Occupai Rimini e che io ritengo sia molto importante perché si pone in positivo e si sviluppa su tutta una serie di problematiche che sono sempre presenti a livello di una città metropolitana ma che con una crisi ormai galoppante, con l'implosione sociale che stiamo vedendo ogni giorno di più, sono diventate effettivamente fondamentali. Cioè trovare degli ambiti in cui prima di tutto partire da un rapporto democratico diretto tra le persone e quindi riscoprire la capacità, la creatività, la forza che emerge quando le persone possono essere tra di loro considerate alla pari e quindi poter sviluppare tutta una serie di lavori, produrre praticamente, sviluppare dei laboratori, sviluppare dei centri per la cultura sviluppare ambiti in cui si possa per esempio tenere delle attività con i bambini, delle attività di dopo scuola cioè tutte quelle cose che forse sembrerebbero normali ma che invece in una società come quella di oggi che praticamente basando tutto sul denaro e questo denaro tra l'altro cercando di portarlo via fino all'ultima moneta a livello degli stati popolari sta negando. Oggi la gente non riesce più ad avere delle risposte anche ai bisogni primari per cui noi pensiamo che sia uno scandalo che una città come Rimini e come tutte le altre in fondo abbia così tanti spazi inutilizzati abbia così tanti spazi che praticamente sono lasciati al progressivo degrado che sono abbandonati quando poi la stessa voce oggi sull'articolo di oggi ci viene a dire che il comune deve spendere magari centinaia di migliaia di euro per poi magari assegnare degli alloggi o delle cose a famiglie bisognose. Queste cose qua possono essere fatte in un altro modo in un altro modo con un tipo di ottica che è quella dei beni comuni è quella dei beni comuni che ci ha contrassegnato fin dall'inizio a noi come lista fare il comune che è l'unico modo che noi pensiamo si possa oggi praticare per uscire da quella che è una situazione generale di implosione sociale che una crisi come quella che vediamo sta portando avanti.